Questo è quello che è successo poco fa Adesso c'è molto nervosismo Ibrahimo si spiegano, Emerson e Gattuso Ha fermato il gioco Aveva fermato il gioco C'è un re che sul pubblico, cioè su questi bui zatti Che loro l'ho segnato Stasunne, ma non è la saldoria Che ma non è nessun Si fanno lo scudenzio, ma quando ci manca E nei correnti staggiano, ma quando si tratta di segui Assolutamente fatto, a capello, assolutamente L'office, disegno, dopo la testa in un gioco Ma vabbè, nello, no, 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 no Stack, ti asciutto un razzo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti